... Ok, bene bene bene, in questo momento dove anche i clown del circo acquisiscono un minimo di serie d'età vi devo chiedere il massimo silenzio, è davvero molto molto importante, grazie Il nostro artista all'interno di quel cannone sta trattenendo il respiro e ha bisogno della massima concentrazione noi non dovremmo far altro che attendere il suo segnale, dopodiché ci faremo sentire come con il conto alla rovescia tutti insieme e poi... Fuoco! Ah, fuego Ci siamo, disattivare la manopola d'emergenza è una procedura fondamentale per evitare eventuali altri rischi noi siamo pronti e voi... Sì! Ma scusate, qui c'è scritto in italiano sul copione, qui il pubblico deve urlare forte, più forte che si può! Sì! C'è, orbe... Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno... E un'esclusiva del Circo di Sandra Orfei, da Venezuela, L'Ovo Cantone e Francisco E. Rapper! Sì! Sì! Sì!